Un suono che ha avvolto le navati della chiesa della Madonna della Libera di Aquino, una musica suggestiva, quella dei cornisti dell'ensemble Guelfo Nalli, diretto dal maestro Fabio Agostini in occasione del ventiquattresimo incontro internazionale. Il concerto si è tenuto venerdì sera, un momento musicale di alto livello che ha visto impegnati strumentisti di grande valore. Una scaletta ricca di colonne sonore dei film più famosi. Tra i vari brani sono state eseguite le musiche di Ennio Morricone, Luis Bakalov e Astor Piazzolla. Ad esibirsi non sono stati solo i cornisti, ma c'è stato spazio anche per altri strumenti come la tromba, il trombone, il contrabbasso e le percussioni. Un mix che ha regalato momenti di magia ai tanti spettatori. Ad esibirsi non sono stati, ma c'è stato spazio anche per altri strumenti, ma c'è stato spazio anche per altri strumenti.